salve a tutti uochi kebari e bentornati su pokemon let's go ivy bene andiamo ad affrontarlo dai mitsuhiro che cavolo di nome farfetch si dice così farfetch l'uccello con che cavolo è un gambo di la tuga vabbè quello che aia fa male doppio calcio ok perfetto fa male guarda guarda quanto gli fa male perfetto eh no evitiamo la mossa ancora doppio calcio dai addio farfetched fine ma buongiorno aia ti odio ma mancava poco no evitiamo la mossa molto bene attacco rapido fine è stata una bella sessione di training ecco qua mt 12 facciata vai block poke flauto ecco qua il poke flauto nello scorso episodio non sono riuscito a prendere snorlax ora vediamo se ce la facciamo di nuovo il caro snorlax vediamo cosa sai fare ivy è pronta è molto resistente snorlax no mi vuole addormentare o forse no attacco rapido eh fa male attacco rapido mi ha addormentato brutto schifoso maledetto borsa ho solamente due sveglie dai non c'è che odio snorlax fa male fa male raga fa male snorlax fa male ok se 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 va bene va bene va bene no no addormentarti a cavolo botte in testa ma fa male mi ha pure addormentato di nuovo questa è l'ultima sveglia che ho voglio far attenzione nooo dannazione provo un attimo a mandare pg8 ci provo eh no raga per non rischiare dai cribbio quanto è resist cazzo quanto cacchio è resistente sto bokmon ok tanto raga l'abbiamo sconfitto ora normale tu 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 wow ehi ma ciao ah doduo allora carissimi vi devo catturare doduo dodu dadidada ecco fatto molto bene evviva hai catturato doduo normale volante ok beh ci sono questi altri però non mi interessa come è fatto ad entrare beh complimenti comunque eh ok wow che bella musica ok ci sono degli allenatori qua eh salve signorina hai scovato il mio rifugio segreto ti prego non dire a nessuno che sono qui in cambio ti regalo questa ah ok mt14 che contiene volo eh dai diamo la pg8 questa togliamo attacco rapido e questi tre tizi che vogliono ciò c'è zucca pelata raticate eh vabbè i danni li facciamo dai è solo che ivy è addormentata danazione vabbè non mi fa tanti danni no aia cretino maledetto mega assorbimento dammi tutta la tua vita grazie koffling è morto è morto raga è morto ecco fatto vedi i danni vedi i danni cacchio i danni anche lui fa male però fa male anche lui raga frana sconfitto che palle questi mi sa che hanno tre pokemon brutti teppisti di strada è un ribelle questo un ribelle del burundi onyx va bene dai no usa terremoto sto bastardo non fa tanto eh beccati una bella idrovampata sei morto onyx eh muori eh porca vacca non osare ridere ah 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 io rido senti beccati il terremoto va schianto porca vacca ciao bel serpente bene gente ok attacco rapido funziona specul mossa maledetto copione ti odio sei un copione del cabolo proviamo morso dai vedi 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 che fa male soffri devi soffrire aia brutto maledetto aia basta basta che pezzente no smettila subito oh mi hai fatto proprio arrabbiare eh mi hai fatto arrabbiare beccati sto attacco rapido e va tenne ma io non capisco ah ok andiamo da questa parte questa è la strada giusta tre megaball benissimo Psyduck aia pezzente del cavolo vabbè frustata dai morto sei stato sconfitto Psyduck ancora Psyduck va bene dai forza fatti sotto bambino ecco qua paperino beccati un'altra frusta non è il tuo giorno fortunato no sei resistente ok non posso più usare quella mossa fogli lama foglie lama foglie lama il tuo compagno d'avventura ha un pelo splendido ah ok ma dov'è che siamo raga ho trovato la super pozione perfetto perfetto oh wow ragazzi questi due guardate oh sei un tipo simpatico sono le evoluzioni di Eevee cacchio raga mi serve un pokemon tipo elettro mi serve un pokemon elettro a me cavolo joltion eh joltion è bello raga aia no questa roba la odio morto addio joltion ecco sembravi un tipo simpatico vaporeon è molto bella vaporeon venosaur preparati a morire una bella frustatina per te signorina mh sei resistente a quanto vedo surf o cazzarola oh mierdas quella mossa la voglio io voglio il surf lo voglio la mossa surf uffa devo curare venosaur mamma mia che bello che è madonna rica che bella mossa no raga stupenda stupenda davvero stupenda una mossa favolosa addio vaporeon è carina dai ah ma qua ci sono tutti gli Eevee qua è tutta la squadra di Eevee fammi vedere la tua squadra dai 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 ok allora quello è l'Eevee di fuoco e non mi ricordo come si chiama flerion forse si chiama flerion ecco si flerion ho detto bene doppio calcio eh mh ma adesso ti becchi l'idrovampata cioè vedi l'idrovampata tanta roba ah però resiste vabbè non mi fai niente cazzo mi ha fatto un po' male eh merda dai non posso perdere contro di eh oh mio dio ma dai ma dai doppio calcio pura re guardorto al primo vabbè sconfitto flerion molto bene pazienza sono soddisfatta lo stesso oh 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 aspetta ma buongiorno cavallino ciao rapidash aspetta aspetta questo è questo è bello questo è bello raga porca vacca se è bello no no siccome sarebbe qualcosa di più figo una mega ball eccellente rapidash entra è entrato rapidash ottenuto grande abbiamo preso rapidash rapidash rapidush intrappola e bersai in un turbine di fuoco che dura per 4-5 turni si oh senti graffio ma graffio ma vaffanbrodo togliti turbo fuoco per charmeleon l'abbiamo catturato del fuoco c'è qualcun altro aspetta c'è questo e adesso ci sono gli allenatori che ci mostrano già i loro pokemon ci hai visto oh mio dio aspetta acquista ma ciao piccoletto ponita si dai usiamo anche per lui dai adesso ti catturo no ponita eccellente vai 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 se 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 catturato molto bene ponita ponita poniponita aspetta posso catturare un eevee ok ok raga ho ricatturato ivy questo schifoso mi ha già battuto due volte e io mi sono un po' rotto le palle bro io ci riprovo ci riprovo raga ci riprovo sto qua c'hai pokemon a livello 40 grande rompiballe seriamente lo odio lo odio è il peggior allenatore di tutti questo merdone schifoso cretino del cavolo fogli lamma di nuovo adesso arriva magneton mega assorbimento ecco vedete usa sempre la mossa cannon flash che è veramente una mossa rompi rompi tanto non ho tante pozioni dannazione raga di nuovo cannon flash mi è rompere questo allenatore mi fa schifo è il peggior fan allenatore di tutti veramente davvero noioso alloso fai schifo cannon flash mi ammazza raga è morto morso funziona si funziona 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 si 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 funziona sta pure tentennando si si no tu è col tuo fulmine del cavolo va bene va bene dai 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 un altro morso un altro morso forza è andato ne manca uno sapete ok so chi è che manca maruak 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 usa osomerang naia no mi ammazza azione facciamo i danni ma nivi se ne va niranta mi servebbe e fa male fa male lo so merang fa molto male però io ragazzi riprovo con terremoto no ma dai ma dai era il mio turno quanto sei stronzo abbiamo vinto vittoria madonna madonna che palle che è stato qua ci sono altri pokemon altri rapidash queste cose qua prendiamo questa pokeball madonna quanti allenatori ci sono qua non me ne frega niente chi se ne frega io devo assolutamente andare alla prossima città o quel cavolo che è visto l'acqua proviamo ma dai sei sei anche una barona del cavolo te lo dico ma vedi che non fa non fa niente pistona non fa niente non fa niente che rottura veramente c'è non ho parole ecco mo questo fa tanto mo questo fa tanto cretina lancia fiamme di nuovo anche lei è una spammona una spammona del cavolo beccati questo va oh io mi sto impegnando io mi sto impegnando ma questi qua sono forti questi sono forti sono forti davvero attacco rapido hai pure adesso muori devi morire devi morire morire mi ha pure scottato chi è l'ultimo eccolo eccolo mega assorbimento subito comete ok meno male che non fa tanti danni se meno male che il suo ultimo pokemon è scarso meno male che il suo ultimo pokemon è scarso se si si mi piace sta cosa mi piace mi piace mi piace un altro mega assorbimento grazie comete non fa tanto ok abbiamo vinto vittoria ragazzi vittoria maria oh no l'avevo detto ad alta voce non ho vabbè fa niente ok raga questo è tutto per l'episodio di pokemon let's go eevee eh si ho affrontato tantissimi allenatori e ho avuto un po' di difficoltà ecco e nel prossimo sfidiamo questi altri allenatori adesso non ho proprio voglia quindi vabbè ciao ciao raga ciao